Cresce con il passare dei giorni la preoccupazione dei dipendenti della selta di Tortoreto. L'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, dell'automazione e della cyber security è presente in provincia di Termo da più di 30 anni. Attualmente occupa 250 dipendenti in Italia, di cui 80 nel sito di Tortoreto. Per questo motivo si è svolto oggi un corteo per non abbassare la guardia nella vertenza in atto, dove i lavoratori, i cittadini e i rappresentanti della politica locale e nazionale sono scesi a fianco dei lavoratori per dire no alla chiusura dello stabilimento di Tortoreto. È veramente un momento brutto, siamo nella congiuntura generale nazionale, pensavamo che ancora noi Tortoreto non avesse di questi problemi, è arrivata anche qui, ci stiamo muovendo, abbiamo dato tutto il nostro appoggio per coinvolgere anche le altre forze politiche, tutte le forze politiche a livello provinciale e regionale per far sì che questo problema venga portato al Ministero dello Sviluppo per cercare di trovare una soluzione. Il lunedì pomeriggio ci sarà un incontro in prefettura, anche lì porteremo le nostre ragioni, ci sarà un presidio durante l'incontro perché comunque vogliamo sostenere questa lotta e vogliamo che il Mise capisca che ci deve convocare al più presto per salvare la Celta. Siamo proprio qua oggi per dimostrare vicinanza a tutti i lavoratori e alle famiglie dei lavoratori. Il problema è un problema più grande, è un problema che tante aziende vengono lasciate sole, soprattutto dal mondo bancario, perché spesso si preferisce mettere in difficoltà un'impresa piuttosto che magari concedergli delle dilazioni. Un altro problema è l'apertura, in questo caso che questa è un'impresa del settore delle telecomunicazioni, abbiamo aperto in maniera indiscriminata tutto il mercato alle multinazionali straniere che in questo caso fanno dei prezzi molto più bassi rispetto alle aziende italiane e che quindi le mettono fuori mercato. Lo che stiamo facendo intanto in questo caso per Celta è accelerare il prima possibile il tavolo al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, il tavolo di crisi, e poi più in generale dare una sorta di, soprattutto per settore delle telecomunicazioni, un po' più in generale però un supporto legislativo, in maniera tale di favorire anche le imprese italiane rispetto alle imprese straniere. Il problema principalmente è stato che non hanno capito l'importanza di quello che facciamo. Noi abbiamo fatto delle cose che sono state importanti per tutto il territorio nazionale, non è una realtà locale, sebbene sia importante nel territorio difendere ciò che è locale, ma è una realtà nazionale, non hanno capito l'importanza di questo.